Amoroso Carmelinda, il nome della nonnina che domani compierà un secolo di vita. Nata a Serino, in provincia di Avellino, cento anni fa Carmelinda nella vita ha fatto la contadina. È vedova, risiede ad Agropoli a Moio Alto e vive con suo nipote. Ha avuto tre figli, Antonio, Giuseppe e Angelo, quest'ultimo ancora in vita e risiede in Inghilterra. Domani 13 febbraio Carmelinda riceverà la gradita visita istituzionale del sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola che oltre a portare i suoi personali auguri si farà portavoce di tutti gli agropolesi che con orgoglio si vanteranno di avere una concittadina centenaria.